Il voto a favore di Pisapia è stato soprattutto un voto di chi aveva paura di non respirare più, c'è stato un momento in cui uno ha preso all'ultimo momento, ha finito l'ossigeno e con la certezza ormai di un futuro vicino, di morte garantita, si è buttato alla finestra, ha aperto la finestra, questo ha cambiato, poi che questo cambi molto la città di Milano io avrei ancora due o tre dubbi perché lui mi è molto simpatico a Pisapia, c'è questo sorriso che ho detto più di una volta, non si capisce se è quello intelligente di Papa Giovanni oppure se è quello totalmente improbabile di Chance il Giardiniere, è un po' l'uno un po' l'altro, due o tre risposte che ho dato recentemente mi fanno pensare che sia più vicino a Papa Giovanni che a Chance il Giardiniere, però non è certo, poi poverino è già stato il circuito del sistema dei partiti, si sono aperti, ho visto aprirsi dei sarcofagi, c'era della gente morta da tanto tempo che Puff è tornata fuori come in un film dell'orrore e si è riinsegnata, ha preso delle posizioni, adesso siamo di ritorno, quella vecchia sinistra di vent'anni fa speravo che non tornasse mai più, però in parte è tornata, lui è Pisapia garante del fatto che il mostro che è uscito dalla cripta che ha aperto il suo sarcofago non prenderà il potere totale, non ci mangerà l'altro pezzo di carotide ancora libero da quell'altro che ci sta succhiando Equitalia, se così succedesse credo che ad un certo punto la reattività di questi adorabili dementi che sono gli italiani crescerà ulteriormente, se questo non succede invece può darsi anche una piccola via di ricostruzione, noi non siamo capaci di vivere per vent'anni a crescita 0,8 all'anno, non ce la facciamo, non è tollerabile. Senta, c'è un corrispondente, un Pisapia nazionale che lei vede come possibile elemento di liberazione o di tentativo di liberazione? No, credo proprio di no, tutti parlano di Vendola che è così carino, però mi sa così tanto di parrocchia, la parrocchia non ci salverà, non è l'oratorio la risposta alla crisi italiana, la crisi italiana verrà risolta in tempi molto lunghi e può darsi anche che non venga mai risolta, ci sono dei paesi che una volta erano importanti, oggi non sono più, l'Egitto non era mica male all'epoca di Cleopatra, adesso è l'Egitto, è un'altra cosa, a un certo punto hanno smontato i marmi delle piramidi per farle case e fe la ha, può darsi che succeda anche da noi così, io ero ottimista dieci anni fa, oggi non lo sono più, penso che l'avvenire sia molto molto difficile, l'unica ribellione che mi immagino possibile è una ribellione feroce nell'ambito giovane con uno scopo preciso, non la salvezza di tutti ma la formazione di una nuova elitta di governo, ma in tutti i campi, non parlo solo di quelli che vanno al Parlamento, si potrebbe anche immaginare che il Parlamento si sposti a Latina, nessuno se ne accorgerebbe, non quelli soltanto, ma anche chi va nelle aziende, chi va a lavorare nelle cose, chi entra nelle competizioni, speriamo che non scappino tutti all'estero, oppure speriamo che scappino all'estero per un tempo breve che tornino con un'esperienza potente alle spalle, qualcosa bisogna che succeda, così com'è la vedo durissima, la vedo durissima perché ogni anno che passa è peggiore di quello precedente. Un paese che si è deindustrializzato come il nostro, in tanti dicono la cultura potrebbe essere il nuovo volano per l'economia. È una pura bufala, bisogna prendere quelli che hanno parlato di posti industriali e menarli, proprio così come si usava una volta, mettere il sacco in testa e dargli le botte, perché io vengo, mi occupo parecchio di Cina, sono appena tornato da Shanghai, dove ho visto il successo formidabile di Expo, l'Expo all'italiano è stata raccontata col titolo internazionale che aveva Better Cities Make Better Life, le città più belle rendono la vita più bella, chi è che non è d'accordo? Il titolo in cinese era l'opposto, era Cities Make Better Life, era un invito all'urbanizzazione, la Cina urbanizzerà nei prossimi 10-15 anni un altro mezzo miliardo di persone, fra 15 anni la Cina avrà 600 milioni di operai, l'India ne avrà 200-300, l'Africa ne avrà parecchi, l'Europa ne avrà ancora e l'America Latina pure con la crescita del Brasile, il mondo di domani avrà un miliardo, un miliardo 200 milioni di operai e ci sono dei cretini che parlano di posto industriale, allora la società di domani è una società manufatturiera, come lo era la società di prima, solo che non lo è più secondo i parametri fordisti del vecchio industrialismo, lo è secondo parametri completamente nuovi, all'interno di questa società manufatturiera c'è spazio per alcuni che fanno prodotti di alta manifattura, è quello che hanno capito i tedeschi 10 anni fa ed è il motivo per il quale il tasso di crescita della Germania è il 5-6% ed è il motivo per il quale l'arricchimento del diritto di consumo delle famiglie tedesche negli ultimi 10 anni è stato del 7%, mentre il nostro è stato un calo del 3%, noi oggi siamo praticamente 11 punti più dietro dei tedeschi di 10 anni fa e questa cosa la gente comincia a sentirla perché fa l'italiano, l'esaltatore degli spaghetti che sono fantastici, poi è bello il sole, poi è anche il simpatico il disordine e poi forse la televisione è tollerabile, ma non ci credo, però dopo mettono le chiappe all'interno della BMW e vedono la differenza, l'altro giorno c'è stata una grandine a Milano molto forte, cadevano delle uova di piccione, la Mercedes non ha avuto un buco, tutte le Fiat le hanno bucate, allora questo è anche uno che non ha fatto studi di economia internazionale, non è necessario avere gli amici alla Humboldt a Berlino, basta guardare la propria automobile, lì si vede che noi siamo 10% meno corazzati degli altri e questa sensazione diventa con il tempo una sorta di disagio di fondo, un rumore di psicopatologia quotidiana che forse può portare a una rivolta, talvolta sembra anche il voto poi nazionale lo ha dimostrato, ma molto spesso porta proprio alla depressione definitiva, non è detto che non muoia l'Italia. Senta, ci caliamo un attimo a Milano e parliamo in particolare di un suo collega potremmo dire, cioè Stefano Boeri, lei nel 93 è stato assessore della cultura di Milano, aveva due deleghe, la cultura e l'educazione, a Boeri invece sono state date addirittura tre deleghe, la cultura, il design, la moda e in più l'expo. Possono dargli anche 15 deleghe, oltre al design dargli anche le scarpette e poi dargli anche i feri da stiro, ma quella non è una delega, è una balla raccontata alla stampa. Il comune di Milano ha 20.000 dipendenti, ha una serie di grossi uffici che si accorpano intorno a delle deleghe storiche che hanno il comando, hanno i fondi e hanno il personale, hanno quello che si chiama le risorse economiche e le risorse umane, non ci sono risorse economiche e umane dietro al design e alla balla, quella roba che non sta in piedi e non ci sono neanche dietro l'expo che è un affare che viene gestito da un gruppo di potere esterno, dove c'entra il comune, la provincia, la regione, lo Stato, l'expo stessa e un gruppo di mobiliaristi che hanno una secrezione di succhi gastrici potentissima e una capacità di gestione scarsa perché non gli danno più da mangiare, non è una delega. Non invidio molto la situazione del povero Boeri perché mi sono trovato ad avere delle deleghe vere che sommavano, avevo la delega alla cultura della città di Milano, avevo la delega al tempo libero, che vuol dire l'organizzazione dei carnevali, delle feste del 2 giugno, dell'estate milanese, una serie di robe che hanno degli uffici, hanno un bilancio, avevo la delega al sistema scolastico, si voleva dire 3.000 bidelli, 3.000 insegnanti delle scuole civiche, tutte le strutture di adeguamento, l'impegno immobiliare su 106 plessi scolastici, era una roba con degli uffici enormi, aveva la delega al patrimonio demaniale, storico, che è tornato ad essere il patrimonio autonomo, che vuol dire tantissimi edifici, di uffici e così via. Io mi sono trovato in una situazione che non si ripeterà mai più, avevo a disposizione più del 50% del bilancio della città e governavo direttamente 14.000 persone, questo mi permetteva di operare, ma soprattutto mi permetteva di integrare, non avevo bisogno per fare l'estate milanese di chiedere al direttore del sistema scolastico il permesso o meno di usare per esempio Villa Simonetta, lo dicevo a me e io mi dicevo di sì, non avevo bisogno di chiedere un intervento particolare per rimuovere il restauro della villa comunale, lui diceva a me e ci mettevamo d'accordo fra di noi, io mettevo insieme le tre cose e poi potevo anche inserire tutte in un'operazione di carne e male e avevo anche la delega alle relazioni internazionali, oppure portare tutta questa cosa per riaprire un dialogo stabile con San Pietroburgo. Non è mai più successo dopo perché dopo è tornata la politica e queste competenze importanti, ognuno vuole averne un pezzettino perché ognuno di queste competenze genera dei contratti, genera dei poteri e genera delle ricadute, questa è la situazione attuale. Boeri cosa farà? A mio parere qualcosa farà pure perché ha una mamma che se ne intende, che è stata una brava designer, che è una donna di gusto, lui ha fatto un po' di lavoro di architettura, è stato forse troppo vicino agli interessi matonari della città e alcune persone che io reputo tra le più negative per la storia della città stessa, uno di questi era l'ingegnere Ligresti, che devo dire onestamente qualsiasi città moderna fa fatica a sopportare perché è uno che ha sposato intimamente e eticamente la causa del brutto quando è nato e da allora l'ha portata avanti con successo sulla città. Un po' compromesso lo è Boeri, infatti mi auguro che Boeri venga molto contrabilanciato da Shons il giardiniere come sindaco se non diventa Papa Giovanni, ecco questa è un po' la situazione. Poi lui sì si interessa di arti contemporanea, fare l'assessore della cultura non è un mestiere facilissimo, bisogna sapere come ha fatto un'orchestra per potersi sedere al tavolo sindacale. Ma lei me lo sta descrivendo un po' come un assessore della cultura zoppo rispetto all'assessore della cultura d'Averio del 93? Ma no poveretto, non è mica colpa sua, è colpa della mutazione istituzionale, tutti quelli che mi hanno fatto da successori hanno avuto una realtà più difficile a gestire della mia, anche in mille modi, è ovvio che un assessorato potente come avevo allora a disposizione e in una situazione che non era ancora l'Italia della catastrofe mi consentiva di tirare sul telefono e chiamare Gianni Versace e dire senti Gianni io c'ho una mostra che se non da i responsori ti fai un errore esistenziale, domani vedo Richard Avedon, fammi la gentilezza, vieni anche tu però ricordati anche il portafoglio, questo si poteva fare in quelle condizioni lì, oggi è un po' diverso, potevo chiamare la Snam dicendo facciamo il carnevale del fuoco, chi meglio della Snam può finanziare il fuoco? E Leo Martini mi diceva hai proprio ragione, la Snam vende fuoco, era più facile operare, allora io sarei assolutamente ingiusto nei confronti dei miei successori se ero bravo e loro no, loro sono stati tutti sicuramente più bravi di me, più preparati, ma non hanno avuto le condizioni oggettive, perché non le hanno avute? Perché non interessa la città, dato vero è quello, io avevo lanciato una conflittualità perenne, feci chiudere per tre giorni il planetario dei miei amici Eppli per deratizzarlo, fu uno scandalo, cioè davvero ho chiuso il planetario, i bambini sono senza planetari, che avvenire avranno mai se per tre giorni non posso andare, poi l'ho chiuso per due anni e nessuno ha più reagito, devo dire l'unico merito vero di cui mi vanto è che ho dato l'impressione a un popolo di analfabeti che la cultura fosse importante e loro per un po' di tempo ci hanno proprio creduto, cioè hanno partecipato, perché i milenari sono buoni, i milenari sono buoni, ma sono poco protagonisti nel campo della vita collettiva e pubblica, cioè se uno li dà foie gras sono felicissimi, se li passa il foie gras alla mortadella universitario non protestano, cioè sono pronti a tutto, sono buoni, sono buoni, forse sono troppo buoni. Senta, una delle critiche sollevate ai suoi successori, in particolare ai vari assessori della Giunta Moratti, della cultura, è stata quella di aver trasformato la cultura in una sorta di eventificio, da mito piuttosto che le notti bianche. No, attenzione, anche lì bisogna stare attenti, non è vero, cioè la cultura di oggi è una produzione di eventi che deve però essere capace di combinarsi con la crescita delle istituzioni e essere in grado di tracciare una linea teleologica che vada in una direzione. È ovvio che tutto è eventi, la vita di una comunità ha una sua liturgia, cioè prima c'è un santo, poi c'è l'altro santo, poi c'è la quaresima, poi c'è la Pasqua, cosa c'è di più evento della Pasqua, ma cosa c'è di più solido della Pasqua, di una cosa siamo certi, un giorno il Duomo di Milano non ci sarà più, la Pasqua ci sarà ancora. Allora, esiste una stabilità degli eventi quando entrano in una liturgia cittadina, quello che è sbagliato è pensare che tutto sia come la festa dell'ultima sfilata, ma anche la moda ha una sua liturgia, cioè una società vive perché ha una liturgia, allora quella accusa lì è sbagliata. È invece corretto dire che loro hanno speso troppi soldi in cose effimere, ma non effimere perché avvengono e poi non ci sono più, effimere perché non lasciano traccia di evoluzioni successive, lì sta il limite, cioè non c'è progettualità e questa mancanza di progettualità non ha avuto nessun effetto stabile sugli edifici per esempio. Adesso tutti i milanelli sono contenti perché hanno portato finalmente a termine, non molto bene, devo dire la verità, l'ultimo progetto che avevo lasciato che era quello di fare il Museo del Novecento, ma il Museo del Novecento non è un dato stabile, perché un museo è stabile, ha un suo progetto museale, ha una sua idea delle raccolte, ha una sua idea della ricerca, della comunicazione, della formazione, che non c'è per niente lì dentro. Allora, ancora una volta, se io faccio una critica al Museo del Novecento che sembra la cosa invece istituzionale, è una critica di effimero, non c'è niente di più effimero dell'allestimento del Museo del Novecento perché non ha strutturazione culturale, la cultura è roba seria, ai milanesi non sembra vero, non sembra vero. Io allora avevo anche delle fortune enormi che avevo ancora delle persone con le quali dialogare di cultura vera, la fortuna che per me è stata l'amicizia che mi ha legato a Giorgio Streler per quattro anni finché non è partito lui per la tangente perché era stato illuso da delle stramberie, vabbè non ne parliamo adesso, ma io avevo a che fare con una persona seria, cioè con una persona vera, il dialogo che avevamo con il sistema scaligio, Riccardo Muti compreso, era un dialogo serio, cioè noi discutevamo oggettivamente di com'era andata la messa in scena della prima. La società non è mica dovuta un assessore, poveretto un assessore, è l'ultimo anello di una catena, la società è la società. Chi considerebbe a Boeri in questa geografia un po' desolata che ha descritto? Non sono in grado, non sono proprio in grado, cioè non sono proprio in grado perché io sono in fondo all'anima, non è vero che sono stalinista, io sono gollista in fondo all'anima, io credo che le istituzioni siano la prima cosa importante da difendere, cioè io credo all'importanza della cosa che si chiama museo con la scritta museo sopra, credo all'importanza della tre cani, credo all'importanza di un teatro che si chiama scala o piccolo teatro, con il nome scritto sopra e le istituzioni che funzionano, perché sono la struttura sulla quale si fonda la società moderna e evoluta e credo che le istituzioni vanno difese in ogni modo, ma credo soprattutto che chi le difende debba purtroppo in questo campo essere un po' un tecnico, non si può parlare di teatro senza sapere cos'è la magia dei tiri o dei palcoscenici, non si può parlare di musica senza sapere cos'è la conflittualità che compone la vita di un'orchestra, non si può affrontare un museo senza sapere che l'area del creating, cioè di dove si mette le casse è importante quanto il bookshop di cui tutti parlano, c'è un mestiere un po' tecnico, ora i tecnici in questo campo fuori dall'Italia e in Europa ce ne sono tantissimi, in Italia purtroppo no perché è un mestiere non pagato e non frega di dire nessuno, però ce ne sono 4 o 5 anche in Italia che lo fanno, mi sembra che non si possa diventare tecnici in questo argomento in due settimane, quindi Boeri sarà pieno di buona volontà, ascolterà gli amici suoi che gli piace quel tipo di arte contemporanea che fa chic, quelle robe che si fanno un po' anche alla Biennale, è un po' così, qui ci vuole in questo campo una grinta legata un po' alla conoscenza tecnica delle cose e la conoscenza tecnica in questo campo è difficilissima farla in tempo breve, lui è un bravo architetto, se uno le chiede le cose dell'architettura, poi le chiede le cose del design, poi le sa lui, ma le sa meglio ancora la mamma, quindi quel campo lì è proprio il suo, lo spostamento nel mondo della cultura articolata come sistema macchina di produzione rischia nel suo caso di essere uno spostamento di tipo politico che è all'italiana, ora abbiamo visto che gli spostamenti politici all'italiana non hanno dato grandi frutti, almeno che non venga la voglia di trovare le persone adeguate e tecnicamente occuparsene, io non mi candido, non tornerò mai a fare cose pubbliche a Milano, un tato una volta, non lo farò mai più, quindi non si pensi, però è lì che mi augurerei, cioè che lui frequentasse della gente un po' all'interno degli argomenti, del dibattito, non solo nel gioco delle superficialità, poi di una mondanità che loro solo credono di essere mondana, non è mondana per niente, loro pensano di essere mondani, ma a Londra, a Parigi, a Shanghai, a New York, non lo sanno neanche, c'è una mondanità da provincia, è meglio evitarla, cosa mia. Meglio stare a casa. Sì, è meglio mettersi a lavorare, cioè seriamente. Senta, a Milano ci sono 50 teatri, il direttore dell'Elfo che è anche il presidente dell'Agis, Grassi, diceva Fiorenzo, il problema è che questi assessori arrivano e vogliono imporre delle loro visioni e non ascoltano invece gli operatori che avrebbero bisogno di essere ascoltati e tutt'al più supportati. Allora, i teatranti, dall'epoca di Luigi XIV, vanno tartassati dal potere, se no non funzionano, però vanno tartassati da un potere che sappia che cos'è il teatro. In realtà poi cosa succede? Che il povero Filazzer Flory, che da bambino voleva fare l'attore, perché lui è un po' come il personaggio di Goethe, sognava di fare l'attore, ha detto faccio l'assessore e è andato a recitare, questo forse non bisogna farlo. Era inegabilmente goffo, è una roba da quale chi si occupa del teatro l'ha guardata come un fenomeno un po' patetico. Tendenzialmente il potere politico vorrebbe che nei teatri si facessero i comizi dei loro partiti, questo è vero. Però tendenzialmente dall'altro lato i teatranti vorrebbero vedere nel potere politico un erogatore idiota, sono che dà i soldi perché loro ne hanno bisogno e lì nasce la vera gestione della politica culturale. Fiorenzo e Grazie siamo amici da tanti anni, ma siamo amici proprio perché l'ho tartassato anche, cioè la nostra stima reciproca veniva dal tavolo di conflitto e di controllo. Penso che alcune cose che facevo allora, dopo hanno osato farle meno perché non è facile farle, io facevo dei grandi tavoli con tutto il teatro di Milano riunito, dicendo noi vorremmo arrivare in una direzione e vediamo di discuterla. Poi ricordatevi che la pila che è a disposizione è questa qua, però se mi date una mano possiamo farla crescere. Questa era la fortuna che non è più capitata da altri dopo e di cui non ho poi particolare merito, è che per esempio il sistema delle mostre, io ho preso in mano Palazzo Reale a 30.000 presenze e lo portai in due anni e mezzo a un milione, non ci arriverà mai più nessuno. Ci vuole un attimo per rifarlo, o forse sì, me lo auguro. Quella forza economica che veniva dal gestire Palazzo Reale, occupandomi io anche del tempo libero, questo che serviva all'integrazione dei settori, mi permetteva di prendere i soldi guadagnati con le mostre e distribuirle una quota nel tempo libero sul sistema teatrale. perché i teatri hanno veramente bisogno di una cosa, sempre, che è il danaro. I teatranti sono consumatori di danaro da quando sono nati, forse era così ad attene, erano lì che bussavano costantemente dal povero Pericle, dacci i sorgi, sono sempre stati così, ma una cosa è darli in un modo irresponsabile oppure responsabile, che non si può più fare oggi perché non ci sono più, e un'altra è dire facciamo dei piani, inventiamo un progetto sulla città. Io ho buttato anche dei soldi infiniti in teatro, credo aver fatto l'operazione più costosa, se pensate che l'abbiamo fatta nel 1996 con Streller, io andai in giunta, guardai i miei colleghi e gli ho detto voglio 4 miliardi e mezzo, e ovviamente vi potete immaginare la reazione delle facce intorno al tavolo, voglio 4 miliardi e mezzo per fare il più grande festival del teatro d'Europa, ma è fatto con Streller. Abbiamo portato 170 mila persone a teatro in un mese, allora si possono fare, però io avevo voglia di farle, i teatri di Milano sono a mio parere tuttora energetici, li conosco quasi tutti, li frequento purtroppo ormai poco perché sto poco a Milano, ma potrebbero loro se volessero proprio ancora proporre delle energie, la città ne avrebbe voglia, ma il momento magico per esempio delle estati, è morto totalmente, eppure nella società moderna l'estate è il momento della connessione, cioè quello che era una volta la socializzazione delle società agricole, nelle società agricole ci si incontrava l'inverno in stalla intorno alla mucca, nella società invece moderna ci si incontra d'estate perché la struttura urbanistica si allarga, si affloscia, permette di andare ovunque, i musei, anche questo sarebbero le lezioni piccole, basterebbe impararle, esiste un'urbanistica della cultura, i musei a funzione di urla devono stare in centro, tutti quelli che hanno provato a fare i decentrati si sono poi raveduti perché, dopo aver visto i falimenti, ma lo ha fatto il MoMA a New York spostandosi, per carità, ma è più le tue, è tornato indietro, l'ha fatto, cioè il Guggenheim ha tentato, è tornato indietro, l'hanno fatto i tedeschi, si stanno ravedendo, cioè stanno lì accorpando Berlino, Tadalem si risposta sulla ricostruzione di Mecchio Castello, cioè è una funzione di urla, è comprensibile anche, è normale, perché la città blocca i movimenti. La notte invece viene una meccanica urbanistica diversa, se di notte decidiamo di fare uno spettacolo molto bello nel posto più improbabile, la gente ci va, se poi alla notte aggiungo l'estate, lo potenzio ulteriormente, perché l'estate vado in motorino, vado in bicicletta, posso fare mille cose, non ho bisogno neanche dei mezzi pubblici, che tanto non vanno mai bene quelli lì per fare il spettacolo, poi vanno quando vogliono loro, non arrivano mai, cioè vanno anche, ma non sono sufficienti. Allora, esiste un'urbanistica della vita sociale, e io credo che Milano potrebbe ancora benissimo, avendo un vaccino di utenza di 10 mila di persone, avere l'ambizione di un'estate milanese forte. Milano porte aperte. Sì, ma bisogna organizzarla. Invece vanno tutti a fare la happy hour, stanno tutti lì o in Corso Garibaldi, oppure sui Davili. Quello va bene, però non è che sia proprio... Non è lì che cambia il mondo. Senta, il sorriso di Formentini se lo ricorda. Formentini era fantastico. Io ho un grande affetto per Formentini, perché Formentini era quello che aveva legittimato una lega di tipo anarcho-sindacale, non di destra. Formentini è stato nel fondatore PSIUC, il famoso partito scomparso in un pomeriggio, quello della sinistra. Formentini era un goscist vero, e aveva messo in piedi una giunta di anarchici. Cioè nessuno di noi aveva debiti politici. Noi potevamo fare veramente quello che reputavamo giusto. Poi lo discutevamo all'interno della giunta, con il materiale umano che c'era nella giunta. Io mi ricordo che la prima proposta che feci era molto divertente, perché io ero molto amico di Laura Betti, non so se ricordate, che era la famosa attrice di Roma, amica di Vasolini. Era un poverete morto, era un grassa così. Quando era ragazza era carina. Due giorni dopo che mi trovo la Laura Betti seduta sul divano davanti alla camera. E mi fa Tu adesso mi devi fare la famosa di Pierpaolo. Tu mi arrivi fa fa... Dico Laura, ma questi qua della Lega, scusa un attimo. Mi frega niente! Tu mi devi fare la famosa di Pierpaolo. E io ho detto Anche perché volevo andare a lavarmi i denti, ho detto va bene. Non si può mica dirgli no, amici. E allora ho portato questa proposta della mostra di Pierpaolo Pasolini per finanziamento in giunta. E mi ricordo che avevamo due o tre elementi di Lega Ruspante, proprio che promettevano già l'evoluzione di adesso della Lega, avevano già i germi dentro. E uno urlò è un comunista culatone, e l'altro delle robe del genere. E poi per fortuna c'era quel simpatico personaggio, un po' trombone, ma molto simpatico e molto intelligente anche che il Marco Vitale che dice no, 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 qua non si può dire Pierpaolo Pasolini è uno dei più grandi intellettuali della storia d'Italia. Io ho fatto la mostra di Pasolini. Poi ho avuto l'opposizione in giunta da parte di quell'essere invece politicamente oserei dire perché non mi può denunciare, perché è un pensiero condiviso ed è una mia dichiarazione politica, non personale. quell'essere infame che è stato vice sindaco di Milano per 15 anni che è una delle colpe anche della catastrofe cittadina di oggi che è il decorato, no? E il decorato quando arrivò la mia proposta di Pasolini fece una cosa, un infarto pubblico. E poi invece questo dimostra perché Milano è la città strana poi invece ci fu la mia conferenza stampa e si rivelò il PC. Dice come mi rubi Pasolini che è mio? Allora c'era Laura Bettini dicendo che non è tuo, è di tutti. Allora, fare cose del genere vuol dire generare il dibattito intorno ai temi culturali. È bello il dibattito, io sono molto favorevole ai dibattiti culturali anche con un po' di sberle, non come quelle che fa Sgarbi che sono proprio troppo offensivi, no? e vanno sull'insulto personale. Ma le cose vere di sostanza, cioè discutere con i Raboni, questo poeta ufficiale all'ora della sinistra con la barba bianca, discutere con i Raboni se Pasolini era roba sua in quanto lui era quello che era ma faceva il poeta o se era cosa che legava in un qualche modo una radice dell'italianità era interessante, cioè sono dibattiti interessanti. Noi facevamo molte delle conferenze stampa le facevamo proprio per suscitare l'attenzione, per fare un po' di frizione alla coscienza dei milanesi. Mi sono preso anche in giro perché avevo detto qui bisogna fare una frizione al cervello perché mi sembrano tutti ma ancora oggi direi la stessa cosa. Io ho convocato delle conferenze stampa in Palazzo Marino, mi ricordo una nel 96 in cui ho detto io vi convoco questa sera per parlare di un atto amministrativo successo esattamente 500 anni fa di cui voi non potete sapere niente perché non è la vostra competenza quotidiana ma questo atto amministrativo è fondamentale. È la dichiarazione fallace di Lodovico il Moro in base alla quale lui veniva insinito come Duca da Massimiliano I d'Asburgo. Vi spiego perché è importante perché con questa dichiarazione del 96 inizia la catastrofe che porta la città del Sera a quella di oggi. o erano attenti cioè c'era anche qualcuno che scriveva perché in fondo io dei milanesi per i milanesi ho molta simpatia perché sono dei buoni diavoli alla fine sono distratti sono superficiali non studiano molto pensano al weekend alle quattro ruote motrici all'abbigliamento solo tendenzialmente sarebbero da catalogare fra gli esseri umani superficiali però alla fine no perché se uno appena li scuote un po' e li parla con affetto apre delle curiosità mentali sono mica tutti scemi ecco questo per tornare al punto di partenza della nostra intervista non sono tutti scemi infatti hanno votato per pisapia hanno mandato il diavolo la povera Moratti ha fatto bene